E qui si vedete che inizia ad incrementarsi, adesso invece stiamo frenando e lo stiamo ricaricando con l'energia di frenatura. Dov'è la leggete questa? Abbiamo messo una serie di trasfruttori. La leggete i pozzetti? Sì, abbiamo detto tutto il corrente di direzione che stanno con rispondendo. Quindi è diretta, cioè c'è solo una trasformazione. La leggiamo, diciamo, la TCU controlla il sistema e la trasmette praticamente direttamente al video. E quindi qui vediamo che si sta scaricando perché siamo in trazione e quando rifreniamo si rende praticamente all'energia. Sì, sì, è sempre al netto, diciamo. È al netto di quella che è corretta lì, cioè questo risparmio è oggettivo, risparmio o ulteriore rispetto a quella che è in linea. Questo kilowatt di riportato, praticamente, diciamo che adesso abbiamo raggiunto un kilowatt, è quello che il supercondensatore ha dato al trappo. Quindi al netto, praticamente, diciamo, è quello che abbiamo... Quindi è quello che è il risparmio che abbiamo passato dal momento che siamo passati.